Matti, la fidanzatina, chi da tua madre? E' l'ultima curva che decreta il vincitore! L'Austria si tinge di marrone perché vince il terrone! E' obbligato a giocare ad un solo gioco per il resto della tua vita tra FIFA e Among Us che scegli. Mi alzo, mi affaccio a questo coso che ho a fianco, questa scrivania, cioè in realtà è una libreria e prendo il carambit che ha una lama effettivamente vera, pacco, miro qua se c'è la carotide e infine! Vado a varandice! Vabbè, fammi della casa, su! Vabbè, questo è il suo gioco, no! E' la televisione? Cioè, guarda quanto porco Dio di spazio, ma ammita una televisione che da scassate da mamma! Provo un'entrata sportiva! Perché pure a me mi ha sempre fatto ride, vede quello sul divano con le Doritos e il mezzo litro di Coca-Cola, con la mano, con la mano sulle palle, con la canottiera sporca di su, quel crocifisso, che li fa Ronaldo! Sto coglione, ma corri, ma come fai a non buttare, a non buttare dentro quel rigore? Lo segnavo io! Tu non facevi manco le scale del campo, utramano! C'è cazza da se niente! C'è cazza da se niente! La bacchina da mamma da se niente! Degli A! Non aiutava la mia! C'ho sette colpi assalto! Grazie di te! Due pompa! Ma comunque non ce l'ho più! Due pompa e venti mitraglietta! Cosa cazzo vuoi che puoi uscire? Ma vuoi due botta a pedali! Figlio della mignotta! Tua madre! Porco Dio! A tre ne prende! E che c'ho due mani! Se no pure la terza ti metto! Eh sì, accerò! Ma non so quanto saremo pieni, perché io non so quanto gioco ancora! Non ne sta me! Vabbè, questa la fa balzare! Ci sarebbero un sacco di cose da dire, di battute che si potrebbero fare, ma non mi sento in grado di poter fare niente! Pazzio! Tanto ti pare che ne è gol questo! Madonna! Ma questa, forco Dio! Ed è pure gol! Questa sì, è la migliore azione degli ultimi 47 anni di Rocket League! A-Dio! Finisce qui! Nezak va... Minore! No ragazzi, non l'ho ben capito! Ma? Ma? Ma la leotofa non è quella delle jene! Ma perché c'è un geyser? Ragazzi, ma... Ma non è quella delle jene! È quella! È quella del cancro! Ah, ok! Ma perché? Scusa, ma perché c'è un geyser? Era una giornalista nostra! Era una giornalista di ieri! Non è quella del cancro! Eeeeee! Devo essere onesto! Dammelo adesso! Vai, dai, dai, dai! Così! Così, così, così! Ehi! Ehi! Chi è? Lewandowski! Let's go! Quanto costo? 329.000! Gara di merda! Siamo stati tesi per tutta la durata della gara, ma almeno abbiamo assistito a una vittoria a due pacchette! Ma che cazzo di gara di merda, dai, porco Dio, però! E sono sei marzo, saranno sempre di più, ti lascio una freddura! Sai come distinguere il sangue di un cane da quello di un terrone sulla strada? Prima di quello del cane c'è la frenata! Anna cade dall'altalena! Persia? Perché non ha le braccia! Vabbè ha un'altra! Toc tocchi è sicuro non Anna! Sei marzo! Che cazzo vi devo dire? E ti metti contro di me a far starò! Chi? Tu! No, non ero io! Ah, non era o che? No, no, sì! Ma donna, marzo, cioè mi sembra eccessivo! Io ho sentito che sei rotto, comunque! Sì, sì, l'ho spaccato, ma me ne compro di ciò! No! Pezza, pezza, se non me ci mettevo contro di te, marzo! Ne ho cinque della Premier in squadra, quindi hai riempito i primi due gruppetti, che sono divisi tre più due, in teoria Varane, soltanto perché ne hai cinque della Premier ha due di intesa, perché ogni gruppetto ti dà uno di punti in intesa, in più lui ha uno di intesa perché ce ne sono due francesi, in più avrebbe il quarto punto d'intesa perché ce ne sono due del Manchester, avrebbe quattro di intesa Varane. Ogni volta devi calcolare tutti quelli che sono nella squadra, devi averne ogni due della sua nazionalità o della squadra, il gruppino dopo è... ...se riesci le puoi fare senza mai frenare, quindi L2 teoricamente può anche non essere utilizzato perché spesso riesci a... Sì, se vuoi andare e se vuoi girarti spinto vicino al muro, sì! Sì, no! Se vuoi girare... Cal per i tre! Chi so?! Oh che lo mirano a costruire la voglia di io! No! Guarda secondo! Ragazzi, la hai legato, è schietta! Ma ma lei, mi ha riuscito a girare la macchina... Car... E' un'erminato in cielo, non la truono! Ma porco mio! Ho soffitto del tutto! Eeeeeee! Te prego, barzo! Così, oddio! Ragazzi, ma cos'è successo?! Cioè comunque Per una volta che tutti e tre Alla semifinale esce sta moralità Perché come celebrazione C'è sempre una medaglia Ma a noi non interessa Ma assieme in testa C'è anche una corona Non più sulla testa della reggina Elisabetta però Eccola lì Beh non più Grazie a tutti